Ecco, questo è il suo posto di lavoro Prego Si accomodi Adesso attiviamo Che colore è questo? Rosso Bravo E questo? Verde Bravo, molto bravo Allora adesso sentirà un cicalino Sì Al primo suono di cicalino Accende queste luce rosse Al secondo suono di cicalino Accende questa verde Al terzo suono Spegne tutto Questo è il suo lavoro Tutto qui Tutto qui Semplice? Semplicissimo Grazie La sua soddisfazione è il nostro miglior premio Niente Verde Un momento, mi sto soffiando il neso Come va? Bene Si annoia un pochino Beh certo, non è che è una cosa Allora mi dovrebbe usare una cortesia Rosso, rosso, rosso Sembra se non l'incomodo Per carità Ecco, tra un intervallo e l'altro Si, tra un rosso e un verde Tra un rosso e un verde Mi dovrebbe attivare la telescrivente col Q Col Q? Si, ecco questo bottone Q Ah col Q la lettera Piggiando qui si attiva Mentre miglio, piggiando la S Passiva No, si disattiva Ecco qua, vede? Con la Q si attiva Con la S e si disattiva Questo per otto punti Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Ah un momento, mi stanno Un momento, sto parlando con il direttore Chiaro? Chiarissimo Semplicissimo Semplicissimo La sua soddisfazione è il nostro miglior premio Pidibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Un momento, sto facendo l'aricù Aricù Sì, sì, non c'è detto Scusi tanto, sono gli otto buchi Sono quali sono i buchi, gli otto buchi della cosa Scusi Sbagliato Bucco, 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 sbagliato Sì Ma adesso pure Bucco, sbagliato Dica No, non c'è E non so dove sta Io sono il nuovo embiegato Pasquale Baudaffi Senti, io non ho tempo Richiamo un altro momento Stiamo a mister Ma un momento, stavo Stavo rispondendo, no? Come va? Benissimo Senta, signor direttore Hanno telefonato per lei prima Io non sapevo, ho risposto io Ha fatto bene Benissimo Venga Mi dovrebbe fare una cortesia Dica Se dovessero richiamare Sì Le rispiasce rispondere Che il dottor Thomas Non è in sede Tutto qui Beh, dato che va a rispondere al telefono Mi dovrebbe fare una cortesia Sempre che non le dispiace Cercate Ecco Mi dovrebbe attivare Questo circuito Z Eh? E va Beh C'è questa qui Sempre che non le dispiace Eh? Qui C'è una leva Sì Attivato il circuito Z Bisogna disattivarlo In questa maniera Chiaro? Questo prima di rispondere al telefono Sì Quindi se io sento suonare il telefono Vengo lì E attivo il circuito Z E poi Disattiva Poi dico Dottor Thomas Non è in sede Chiaro Chiarissimo Semplicissimo Semplicissimo Grazie La sua soddisfazione È il nostro miglior premio Chiaro 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 Sì Il dottor Thomas Non è in sede Come va? Bene Benissimo Bene, benissimo. Bene. Aspetta. Sì. Sende. Sera. Finito, finito. Il dottor Thomas non è in sede. Bravo. Mi compiaccio. Prego. Sa cos'è questo? Questo? Un vischietto? Avvisatore acustico. Zufolandone l'avvisatore. Prego. Lei attiva un circuito Y di rigore. Di rigore. Poi sempre, se non le dispiace, qua c'è una leva che lei disattiva. Chiaro? Un momento che riepilogo un attimo. Tu che io sanno squillare i telefoni. Facile. Vengo di qua. Il circuito Z. Poi pirimiri, pirimiri. E' disattivo. Il dottor Thomas non è in sede. Attacco. Il rigore. Vengo qua. Sì. Facile. Chiaro? Chiarissimo. Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Il nostro miglior premio. Gio the Grazie. Il piano di Andreas Rigore! Dottor Tomos, lo sussete? Vabbè! Rosso! Col cu, col cu! Verde, si passa! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, otto punti! Non c'è! La soddisfazione è nostra! Rigore! Non c'è! Punizione! Arbitro Cornuto! Non c'è il sede, non c'è il sede! Circu, to zeta, circu, to zeta! Oh, non c'è! Qui, qui, qui! Oh, oh, oh! Oh, la caracara! Oh, la caracara! Oh, la caracara! Fermo, rosso! Ho la caracara! Ah, non c'è, non c'è, non c'è! Andando, non c'è! нали! Testa, testa, testa! Ah, ah, non c'è! Ah, ah, ah! Rigore, undici metri! Undici metri! Ah, ah! Ah, ah, ah! Ti fa, ti fa! Bravo! Signor Divettore? Sì, ma la sua soddisfazione è il nostro miglior premio. Ce l'ha una scopa? Per farmi cosa? Siccome mi è rimasto il sedere libero, già che ci sono, do una pulitina all'ambiente.